Buongiorno, è venerdì 13 marzo, sono le 13.30 circa, qualche informazione, qualche raccomandazione per fare un po' il punto della situazione. Innanzitutto ho appena dato a disposizione di spegnere i parcometri nella città di Belluno, vista questa emergenza è opportuno che li lasciamo spenti, quindi dove ci sono le strisce blu non occorrerà adesso pagare la sosta fino a quando non daremo un ordine diverso. Non cambia nulla invece per quanto riguarda il parcheggio di Lambioi e il Metropolis che invece hanno sistemi diversi, quindi lì continuerà la sosta ordinaria. I mercati domani mattina, sabato, saranno chiusi, sarà chiuso il mercato in centro storico a Belluno, il mercato di Castion, il mercato di Cavarzano, in centro storico forse qualche bancarella di alimentari che riuscirà eventualmente ad organizzarsi può darsi che riesca ad essere aperto, ma insomma è un'evenienza perché sapete che devono riuscire a garantire le distanze di sicurezza e non è assolutamente una cosa molto semplice. Prosegue l'attività del nostro sportello allo 0437 913 404 che è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 tutti i giorni. Abbiamo già gestito una cinquantina di casi, forniamo informazioni, forniamo aiuto, ci prendiamo nota e diamo una mano attraverso gli assistenti sociali, attraverso la Sersa, attraverso la protezione civile, attraverso le farmacie, quindi è un centro di ascolto dove cerchiamo di darvi una mano dal punto di vista proprio molto pratico. Dal lunedì al venerdì rispondono i nostri educatori professionali, nel weekend faremo rispondere a qualche volontario di protezione civile ma in qualche maniera cercheremo di gestire ovviamente le chiamate ugualmente. Poi dal lunedì Bellunum, oltre alle varie disinfezioni che già vengono effettuate, comincerà anche una disinfezione di strade e marciapiedi, non è una misura necessaria ma è una misura che vogliamo attuare allo stesso perché è giusto che innalziamo il nostro livello igienico-sanitario a tutti i livelli. Lo dobbiamo fare anche noi a casa nostra e sul nostro luogo di lavoro e allora lo facciamo anche noi attraverso Bellunum sulle nostre strade. Vi comunico che i nostri uffici stanno tendenzialmente chiudendo l'attività di sportello e cioè stiamo cercando di gestire tutte le pratiche o per telefono o per email o al limite anche di persona però su appuntamento, questo per evitare ovviamente gli assembramenti di persone. L'indicazione comunque è questa, cercate di evitare di fare delle pratiche amministrative che magari oggi sono inutili e cerchiamo di stare a casa piuttosto di non riversarsi negli uffici pubblici che oggi non serve. A livello provinciale si stanno facendo numerosi controlli con tutte le forze dell'ordine, compresa anche la Polizia Municipale naturalmente, sono state solo nelle ultime 24 ore fermate 306 persone, due di queste ahimè sono state denunciate perché non avevano una motivazione per andare in giro e sono stati fatti controlli su 828 esercizi commerciali. Posso dire che tendenzialmente la gente si è adeguata bene, tendenzialmente diciamo alle nuove disposizioni durissime e che anche le attività commerciali stanno rispondendo tendenzialmente in modo corretto. I controlli però continueranno soprattutto nel weekend saranno molto rafforzati quindi attenzione. Qualche raccomandazione, qualche informazione. Le panchine, ci sono le panchine, le panchine vi raccomando che devono essere usate con intelligenza, non dobbiamo fare capannelli di persone, assembramenti di persone sulle panchine, dobbiamo stare distanti, dobbiamo evitare il contatto sociale ravvicinato con altre persone. Se dovete fermarvi su una panchina fatelo magari da soli verificando che non ci siano persone intorno per favore, noi le disinfetteremo però dobbiamo fare grande attenzione perché la vicinanza ovviamente è pericolosa. I parchi pubblici sono aperti, vi prego di usarli con intelligenza, abbiamo fatto affiggere dei cartelli, i parchi sono per fare attività motoria, per rilassarsi, quello che volete, dobbiamo andarci però mantenendo grandi distanze dalle altre persone e non creare assembramenti. E questo vale anche per i bambini. Io lo so che è molto difficile tenere i bambini poveretti che hanno voglia di andare a giocare sui giochi, tuttavia noi dobbiamo fare in modo che i bambini non entrino in contatto con loro e cerchino di stare diciamo distanti perché lo stiamo facendo per la loro salute e innanzitutto e ovviamente anche per la nostra. Si può andare in bicicletta, si può andare in bicicletta al lavoro o si può andare anche solo per fare attività motoria. Dobbiamo sempre farlo però da soli, diciamo non in assembramento e mantenendo le solite diciamo raccomandazioni di tipo igienico sanitario. Posso portare fuori il cane a fare i bisogni? Assolutamente sì, non entrando in contatto con altre persone, limitando la nostra passeggiata e cercando di tornare a casa il prima possibile. Infine una raccomandazione, un consiglio. Nei supermercati ci sono persone che vanno a fare la spesa con tutta la famiglia, la famiglia non va portata al supermercato, il supermercato oggi serve solo per procurarsi le cose di cui abbiamo bisogno e basta. Si entra con una lista precisa di cose che dobbiamo acquistare, prendiamole, andiamo alla cassa, manteniamo le distanze con le persone alla cassa, si paga e si torna a casa. Non deve essere un luogo dove trascorriamo troppo tempo, dove portiamo le famiglie. Per favore è importante, serve a tutti noi. Per il resto un grande ringraziamento alle forze dell'ordine ma anche e soprattutto al personale sanitario in prima linea che veramente ci sta tutelando, sta facendo il possibile per tutelarci. Nel frattempo cerchiamo anche noi di aiutarci, ricordiamoci sempre che noi siamo in mano nostra, quindi facciamo le cose importanti, informiamoci in modo adeguato e modifichiamo le nostre abitudini di vita. Grazie e una buona giornata e a presto. Grazie.